E' arrivato il sì del Consiglio Comunale di Chieti al bilancio al piano triennale delle opere pubbliche e al documento unico di programmazione. All'ordine del giorno della sise comunale a Palazzo di Città anche il bilancio della deputazione teatrale del Marucino che ha avuto il via libera. Il piano triennale da 56 milioni di euro che comprende 43 interventi strategici per la città che vengono finanziati con fondi statali e risorse che arrivano anche dalla vendita degli immobili sarà davvero importante per il risanamento ed il rilancio del capoluogo teatino. Devo in questo momento in questo luogo ringraziare tutto il Consiglio Comunale non solo la maggioranza ma anche la minoranza che è intervenuta con interventi costruttivi interventi mirati alla condivisione delle cose e delle decisioni è un passo importante perché questi documenti approvati rappresentano i fondamentali programmatici come lei diceva prima per gli anni a venire per dare un nuovo volto alla nostra città. Dopo questo passo quindi ora cosa accadrà cosa farete? La prima cosa è dare ulteriore impulso al portare a termine le grandi opere di cui prendiamo il testimone da parte della precedente amministrazione e come nella buona politica deve accadere devono continuare per essere portate a termine. Ovviamente io mi auguro che nei miei cinque anni di mandato nei miei quattro anni rimasti di mandato possa portare a termine la gran parte di questi programmi se non la totalità e vorrei che la città si trovasse solidale senza steccati ideologici e politici nella riqualificazione della nostra Chieti che potrebbe con queste opere veramente cambiare volto.